God Save the Wine non può mai mancare il Chianti Classico, questo perché è un vino che si sposa con la nostra filosofia del vino da consumo, da tavola. Questo non è un problema però a Radda, dove insomma vino buono ce n'è. Nell'anno dei 150 anni d'Italia c'è anche mezzo secolo. Esatto, nell'anno dei 150 anni d'Italia noi in realtà abbiamo compiuto i 50 anni, quindi per questo abbiamo fatto questo Chianti Classico e poi sarebbe un Chianti Classico diciamo da un vigneto unico, quindi una sorta di selezione, questo vigneto si chiama I Mazzoli e per la precisione sono 47 anni di vigneto Sangiovese e Canaiolo e quindi abbiamo pensato appunto per celebrare i 50 anni dell'azienda di ricreare questo Chianti Classico selezione che appunto abbiamo chiamato Mezzo Secolo. E noi abbiamo pensato appunto per riscoprire la prima e la vecchia etichetta del primo Chianti Classico per i 50 anni di ritirare fuori questa etichetta a bianca chiamandolo Mezzo Secolo con la differenziazione delle due firme, l'inizio dell'azienda nel 1961 con la firma del primo proprietario di Remo Ciampi e 2011 con il figlio che porta avanti appunto l'azienda che è Daniele Ciampi. Ecco io dico non vi fate spaventare dal mezzo secolo e da tanti discorsi, in realtà un vino si beve benissimo, è coinvolgente, direi quasi emozionante la sua schiettezza e ha questi profumi veramente molto ricchi che spaziano dal classico Sangiovese più qualcosa di più esotico, particolare. Sì, 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 sono profumi molto particolari tirati fuori dal Sangiovese, quindi incredibile ma sono profumi che ricordano profumi tropicali. Comunque sia, è un vino che comunque è molto facile alla beva, cioè è un vino che poi è la zona di radda, cioè con questa acidità, con questa freschezza che poi deve o comunque sia caratterizzare un vero Chianti Classico. Tutto sommato comunque noi siamo sempre rimasti fedeli diciamo alla linea del Sangiovese. Vabbè anche noi vogliamo muoverci lì dentro. Grazie mille, buon proseguimento. Grazie a voi.